Dal centro Italia, nel cuore dell'Umbria, stiamo producendo cioccolato per tutto il mondo e per tutta Italia. Da anni stiamo facendo export anche più o meno il 45% della nostra produzione di San Sisto. Produciamo sotto il marchio Nestle o altri di altissima qualità di prodotti che lo esportiamo a questi mercati nel mondo, in Europa, in Asia o in altri mercati. Recentemente abbiamo lanciato anche KitKat Bunny, un prodotto nuovo internazionale, un marchio di 85 anni, internazionale, fatto in Italia. Per l'Italia e per l'estero è un grande onore e un grande piacere che noi facciamo questo dall'Italia e per tutto il mondo. Per il gruppo Nestle, dove il stabilimento di San Sisto gioca un ruolo importante nel Nestle Italia, sia per i dipendenti che abbiamo lì e anche per la categoria in Italia. è il stabilimento più grosso e il numero di ADDT. Abbiamo studiato moltissimo le tendenze dei consumatori, noi siamo sempre molto attenti a garantire prodotti che vengono incontro proprio a soddisfare le esigenze dei nostri consumatori. E sicuramente uno dei grandi trend è quello dell'autenticità. È proprio in questo solco che nascono perugine granellati. Un prodotto che, oltre all'autenticità, proprio perché sono delle praline dal cuore di cioccolato, ma con gli ingredienti a vista, croccanti ingredienti a vista, l'altro grosso trend che seguono è proprio quello dell'artigianalità. Perché? Perché se noi guardiamo il prodotto è come se fosse fatto a mano, sono uno diverso dall'altro questi prodotti, proprio come se fossero molto molto artigianali. E questo è, ci piace raccontarlo, il fatto che sono perfettamente imperfetti. E veniamo al nostro marchio internazionale per eccellenza, KitKat. Un brand globale, il vero brand globale di Nestlé Mondo. Un prodotto sul quale noi adesso stiamo lavorando e stiamo lavorando proprio qua, nell'hub internazionale di San Sisto. E fa parte ancora una volta di nuovi investimenti che sono venuti dalla casa madre, proprio perché San Sisto è il produttore di un nuovo prodotto a marchio KitKat. È uno snack che si trasforma in un simpatico coniglietto. E questo perché con KitKat abbiamo una strategia globale proprio di entrare all'interno delle stagionalità più importanti. E sicuramente la Pasqua è una stagionalità estremamente importante. E veniamo a un'altra tendenza che stiamo vedendo non solo in Italia, ma in tutta quanta Europa. Ed è la tendenza proprio alla grandissima ricerca della parte dei consumatori di premiumness. Premiumness che nel cioccolato significa fondamentalmente cioccolato fondente di altissima qualità. E su questo noi abbiamo Perugina Nero che è il nostro ambasciatore di grande qualità del cioccolato fondente. Abbiamo anche una novità, abbiamo Perugina Mini Nero, un formato monoporzione della nostra tavoletta. 70% cacao, quindi un percentuale elevato, assolutamente in tendenza. E massima sottigliezza per una degustazione o perché no, per accompagnare una pausa caffè.